Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. Dijon, Meuvert, Montbéliard et Tournu. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des Solutions Ecologiques sur jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr On compte sur vous! Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il Podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Cinquecentoni è la prova che l'italiano è molto frustrato. Parlo di quello che è accaduto a sto povero ragazzino qualche tempo fa, un annetto fa mi pare, forse anche due, sì, forse due, quando è accaduto quello che è accaduto, ovvero che lui ha fatto queste canzoni in cui ostentava comunque il ragazzino zingaro che vive nella comuna, il padre coinvolto in grossi traffici, poi arrestato e via dicendo, servizio delle Iene, caso nazionale, perché comunque il suo video musicale aveva fatto molto scalpore, in featuring con Vacca e Jamil, e questo ragazzino ci prese una foto, non lo so, quante parole ci ha preso sto poveraccio? Una miriade, parole su parole, ed è un ragazzino di dodici anni, al di là del contesto che vive, al di là della sua famiglia, e di quello che dice nei pezzi, io credo che Cinquecentoni sia forte per essere un ragazzino, è chiaro se avesse sedici, già settici, ottani sarebbe diverso, ma lui ne ha dodici, dodici anni e ha fatto comunque delle canzoni in cui ha dato una buona visibilità al suo potenziale, ecco, mettiamola così, perché io è di potenziale che parlo, in questo caso, e non c'è nulla da dire al riguardo, chiaro la spinta di Vacca e Jamil è stata importante, e poi quando inizi a esplodere, poi esplodi, perché è un dodicenne che ti rappa bene, poi che è successo? È stato l'arresto, è stato del padre, lui attaccato, e poi diciamo che è un po' sparito dai radar, pure per tutelarsi, e ci ha preso un sacco di parole, quindi pensate emotivamente che cosa ha vissuto sto ragazzo, cioè io personalmente ho vissuto, un problema, diciamo, di dissing mediatico, e non è stato facile da affrontare, però avevo 25 anni, e avevo un'altra mentalità, un altro spessore, ed è stato difficile, immagino viverlo a quell'età, molto più grande, cioè praticamente 100 volte più grande, perché quando le Iene ti prendono di mira, ha fatto una canzone prima di quella di oggi, il buon Cinquecentoni, in cui dice, voglio fare i soldi, voglio fare lo yacht yacht, con i soldi fatti a fare yo-yo, quindi ha cercato un po' di ripulire la sua immagine, e mi ha fatto tanta tenerezza, quella canzone, perché, cioè si vede che non era lui, ma si vede che stava cercando di, di esprimere un messaggio positivo, ma ha fatto tenerezza, ovviamente non se ne è inculato nessuno, sto pezzo, perché purtroppo, quando ti vai un immaginario un po' trash anche, se non lo segui, poi non ti incula nessuno, quindi è inutile che uno dice, prova a fare le canzoni serie, le canzoni serie, non gliene frega niente a nessuno, devi vincere Sanremo, se vuoi arrivare, no, neanche vincerlo, vincerlo no, devi arrivare comunque a un pubblico televisivo, devi fare amici, se vuoi fare delle canzoni introspettive, diciamo, più o meno, oppure devi avere una fanbase immensa, se invece tu arrivi al successo con determinate canzoni, poi non puoi cambiare, e oggi, siamo arrivati ad oggi, dove il buon Cinquecentoni aveva bisogno di rilanciarsi, e un vero amico, Jamil lo è, un vero amico, come Jamil, ha detto, sì, facciamolo, e gli offre un'altra volta il fit, è un bel gesto da parte di Jamil, un bel gesto, perché comunque non è scontato, non conviene a nessuno, perché Cinquecentoni a livello mediatico adesso non ha molto valore, diciamo, però io credo che Jamil l'abbia fatto proprio per supporto a questo ragazzino, che porca puttana, giovane, piccolissima, ha preso una valanga di merda, e non la meritava, quindi bella per Jamil, bella per Cinquecentoni, sulla canzone posso dire, Cinquecentoni è maturato molto nell'anno, in questo tempo, è chiaro che la strada è lunghissima, lunga, inesorabile, però, per avere 12 anni, io non so voi, ma io a 12 anni non sapevo neanche fare le rime più banali, nel senso, massimo rispetto per il Cinquecentoni, Jamil, Jamil ti ha fatto la strofa trash, fa ridere, sempre lo stesso flow, sempre la stessa metrica, e sempre gli stessi concetti, qui mi è stato particolarmente simpatico, ho detto due o tre cose che mi hanno tirato fuori una risata, ecco, poi è chiaro che, il Jamil se non si rinnova, ecco vabbè, in questo caso nel featuring te lo puoi permettere, perché se io faccio il featuring, voglio il tuo stile, quello che sei, e porti quello, però, spero per i futuri progetti di Jamil, che il flop del suo disco solista, gli sia da lezione, perché non è che, concettualmente, era sbagliato qualcosa, è che il disco era, un dischetto da quattro soldi, a parte un paio di tracce, per il resto, poca roba, quindi spero che Jamil, insomma, a seguito tutte queste esperienze, capisca che deve fare dei passi avanti, sia a livello stilistico, sia a livello di contenuti, e a livello metrico, insomma, però, comunque per me resta uno dei più validi, anche se ora, non gli è tutto dovuto, diciamo, per me c'è stato un grande calo, da quando ha fatto da solo in poi, questa canzone è stata simpatica da ascoltare, interessante, spero che rilanci, 500oni finalmente, che comunque, dopo tutta questa shitstorm, merita un po' di soddisfazioni, è bella per Jamil, che comunque si è offerto volontario, nell'aiutare un ragazzino, che ha bisogno d'aiuto, al di là del featuring, ha proprio bisogno d'aiuto, a livello psicologico, forse anche psichiatrico.